Ciao ai visualizzatrici, io sono Tommy degli Shredder Recensioni. Oggi con un video extra un pochino diverso dal solito. Infatti oggi non andremo ad analizzare un film o un'esperienza da concerto, ma andremo ad ascoltare una demo di una chitarra. Voi vi chiederete, quale chitarra? Beh, partiamo un pochino dal principio. Io, da settembre 2015 fino a giugno 2016, ho avuto la mia prima e vera e propria esperienza con la liuteria. Infatti, negli anni precedenti, avevo solo progettato dei modelli che poi sono diventati realtà. Oggi però andremo ad ascoltare la mia prima e vera e propria chitarra realizzata dall'inizio alla fine, ovvero la Vittoria in Gran Tempesta. E detto che ormai siamo arrivati a giugno 2017 e ha compiuto un anno, per commemorarla ho deciso di realizzare questo video con una demo fatta meglio a quella realizzata in precedenza e con una sequenza di immagini che mostrano il suo percorso dall'inizio alla fine. Tutte le specifiche tecniche verranno scritte a lato durante la visione della demo. Ringrazio Francesco Serniese per aver suonato nella demo e per averla mixata. Ma ora, passiamo all'ascolto. www.marcoparet.com Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.